L'unico pellegrinaggio che al momento da più di 80 anni c'è in questo paese è in una cittadina che si chiama Predappio dove alcune migliaia di stronzi vanno ogni volta a ricordare quel maledetto figlio di un cane di nome sua eccellenza Benito L'unico posto dove avviene ogni anno un cazzo di fottuto pellegrinaggio Sulla tomba di Jim Morrison vanno in meno, su quella di McCartney vanno in meno Sulla tomba del grande leader dei Queen, sulla tomba di Elton John No ma non è morto Elton John però scusa Non è morto Elton John, allora è per quello che non vanno E per quello che non vanno, questo è chiaro E nemmeno Paul McCartney è morto, però hai detto che hai sfuggito Paul McCartney Volevi dire un altro, volevi dire quello dei Queen E quello di Freddie Mercury Bravo, Freddie Mercury Vabbè abbiamo capito Comunque si è capito il concetto, quelli sono vivi